Chi ti prega con vera fede, e con lui camminavano i suoi discepoli, e una grande folla. La solidarietà, oggi rappresentata in maniera solenne dalla presenza del Presidente della Repubblica, al quale rivolgo il mio deferente saluto, dal Capo del Governo, dal Presidente della Camera, del Senato, dalle autorità... La solidarietà, oggi rappresentata in maniera solenne dalla presenza del Presidente della Camera.